Grazie, avete già visto che anche l'Unione Europea si è occupata di questa questione per quello che riguarda il protocollo tra l'Italia e l'Albania. Quindi si è detto che questo si muove nell'ambito della cornice europea, del diritto europeo. Noi osserviamo con interesse questa questione, però qui è molto importante la vicinanza tra l'Albania e l'Italia divise solo dal mare. Comunque noi osserviamo con interesse, dobbiamo trovare una strada per ridurre la migrazione irregolare, per arginarla, per fare in modo che ci siano dei percorsi legali di migrazione. Abbiamo bisogno di partenariati con i paesi di origine e di transito. Stiamo lavorando in questo senso, partenariati veramente sullo stesso piano, come ha detto la Presidente. Però è già stato tutto quello che è necessario per quello che riguarda l'impresa dell'industria della difesa italiana. Collaboriamo in Europa strettamente, questo lo stiamo ovviamente facendo, anche in uno spirito di amicizia, anche con l'idea di sviluppare il tutto in un futuro.